Noi abbiamo negli studi di Torino Giorgio Airaudo, io lo saluto, buongiorno Airaudo. Buongiorno direttore. Allora, autore di un libro pubblicato da Leinaudi, possiamo inquadrarlo sulla mia scrivania, La solitudine dei lavoratori, è un libro molto bello e inconsueto, ne parleremo fra un minuto, la vicenda Fiat riguarda l'intera industria italiana, mostra che cosa sia oggi il diritto al lavoro e denuncia le responsabilità della politica nel lasciare soli i cittadini lavoratori, perché, Giorgio Airaudo, la solitudine dei lavoratori è un tema, si è passati da un tempo ormai lontano, 40 anni fa, in cui amici e nemici consideravano i metalmeccanici o la causa di tutti i problemi o la soluzione di tutti i problemi ad una situazione in cui lei racconta di operai dimenticati, di un operaio che si occupa sempre delle cinture di sicurezza di un lato della macchina e mette dei fermi tutto il giorno, sempre, da solo, senza contare e senza essere considerato. È molto poetico il libro pubblicato da Leinaudi, gli ho dato una scorsa ieri quando l'ho ricevuto. È davvero questa la condizione del lavoro, questa sensazione di abbandono a uno strapotere del manager dell'industria e con una politica e una società civile che non si occupa più di te? Io credo di sì, questo è il lavoro che incontro io, sono gli uomini e le donne che lavorano, che hanno avuto una possibilità negli ultimi anni di ritornare a comunicare semplicemente perché a loro è stata chiesta una cosa impossibile che però tutti hanno ritenuto normale, la cosa impossibile che è stata chiesta a loro è di garantire a uomini e donne che fanno i turni in una fabbrica metalmeccanica e che guadagnano dopo 25 anni di lavoro, 1200, 1270 Euro al mese, gli è stato chiesto di garantire gli investimenti, di garantire per conto di uno Stato, per conto di una collettività, per conto di una comunità finanziaria e economica, garantire loro salariati a 1200 Euro al mese che un'impresa restasse in questo Paese. Questa è una bugia, è una bugia che però è stata possibile nel silenzio e nell'opportunismo di molti. Ovviamente è l'ultimo episodio di una lunga storia che ha portato a questa condizione di solitudine, è la storia che ha visto il lavoro perdere valore, che l'ha visto scomparire socialmente e la storia che ha visto l'inversione di un rapporto tra il lavoro umano, la ricchezza, l'intelligenza, anche la fatica, la sofferenza del lavoro umano diventare meno importante delle merci che questo lavoro umano produce. Per cui le merci sovrastano le persone, gli individui, le loro storie, condizionano il loro futuro. Questa condizione di solitudine per me ha una responsabilità enorme in chi non li rappresenta più, in questo vuoto di rappresentanza che li lascia soli di fronte ai problemi fino appunto a dover garantire gli interessi di una multinazionale come la Fiat che era un'azienda nazionale e non lo è più. Airaudo, però questo discorso sulle merci, il valore delle merci e il valore del lavoro, siccome i miei figli fanno il terzo ricevo e si stanno occupando di questo, è una storia che ha fatto parlare di sé nell'Ottocento. Quello che è successo ora, che cos'è? E forse, probabilmente, è che nella nostra società quel tipo di lavoro ha perso di importanza perché non si riesce più a farlo qui, cioè montare una macchina in una catena di montaggio è un lavoro che ormai è passato da altre parti del mondo. Allora forse siete stati voi a non cogliere le occasioni di una riconversione, voi sindacalisti, lei è responsabile per la fiuma del settore auto, domando, no? Cioè, se con i nostri livelli di reddito, con il nostro cento medio, con la nostra collocazione in Europa, nel mondo, tra virgolette, poi neanche questo funziona, dei consumatori, quel tipo di lavorazioni non sono più congrue, no? Rimanere semplicemente in difesa significa arretrare sempre un po', o no? Guardi, due aspetti. Il primo, io non penso che ci siano prodotti come le auto che non si possono produrre più da noi, cioè non c'è un destino per cui ciò che noi non possiamo più produrre deve andare in un'altra parte. Dipende come lo produciamo, per cosa lo produciamo e quali parti di questi componenti noi produciamo. Io credo che si possa continuare a produrre in questa parte del mondo, nel nostro paese. Peraltro ci sono esempi che lo dimostrano, cioè la stessa industria automobilistica americana ha subito e sta subendo una qualche forma di riconversione e di rilancio. Quindi, secondo me, bisogna sfatare una fatalità. Cioè, non è vero che noi siamo destinati a perdere la produzione di serie o la produzione di autoveicolo. Potremmo farla meglio, potremmo farla in modo più umano, in modo più efficiente, meno energivolo. Poi c'è il secondo aspetto che lei dice, che bisognerebbe ritornare a discutere di che cosa si produce, perché fino adesso abbiamo parlato del come si produce e che cosa si produce avrebbe un grande spazio anche delle nuove opportunità di mercato. Per esempio, io penso che servirebbe ragionare su una mobilità sostenibile, su degli autoveicoli come si dice, che non necessariamente sono sospinti da un motore termico, che è un motore antico, tradizionale, ormai quasi consumato nelle sue possibilità tecnologiche, ma si potrebbe ragionare su altri tipi di propulsioni, su altri tipi di carburanti, su mobilità collettive o mobilità, come si dice, in affitto, in condivisione. Ci sarebbe uno spazio enorme di lavoro anche intelligente, senza mai perdere la capacità del saper fare, del saper produrre, che poi è decisivo per mantenere il controllo su quei processi. È che noi non discutiamo più di che cosa dobbiamo produrve e ci rassegniamo a discutere degli effetti e discutendo degli effetti perdiamo il lavoro, svalutiamo i nostri paesi e veniamo costretti a inseguire i paesi emergenti a condizioni economiche e sociali che non possiamo sopportare. Noi non possiamo incontrare il lavoro dei paesi emergenti precipitando sulla loro condizione. Allora, Paolo Gappelli, in Francia si discute di auto, come? Sì, c'è un piano di salvataggio che ormai addirittura d'arrivo, lo scrive oggi il Financial Times, quello del governo francese per il gruppo Peugeot. Aiuti per 5-7 miliardi di euro alla finanziaria del gruppo automobilistico, questo lo stratagemma trovato dal governo francese, il piano però, dice il Financial Times, richiede il via libera dell'Unione Europea e ha già provocato le ire di Volkswagen. Persone vicine alla trattativa dicono che l'accordo sia imminente, tra l'altro prevede un ingresso nella cabina di pilotaggio di Peugeot anche di rappresentanti sindacali. Airaudo, è protezionismo o è una strada da percorrere anche da noi, quella francese? Io penso che è una strada che hanno percorso tutti, gli unici che non l'hanno percorsa siamo noi, perché abbiamo, come si dice, nell'esplosione della crisi nel 2008, con la Golden Share dentro il governo Berlusconi della Lega, abbiamo avuto un comportamento taffazzista, cioè nel momento in cui bisognava dire a Marchionne, alla Fiat, guardate vi state internazionalizzando, vi accompagniamo, discutiamo di cosa produrre in Italia, di quanto produrre, di come mantenere l'occupazione e magari per una volta, se ci sono un po' di soldi pubblici, pochi e maledetti, ve li diamo, ma ce le restituite, come poi hanno fatto negli Stati Uniti, con l'11% di interesse, per cui il Presidente Obama può in questa campagna presidenziale dire che i soldi dei contribuenti sono ritornati con gli interessi e che lui ha salvato l'industria automobilistica negli Stati Uniti e noi l'abbiamo lasciata scappare, abbiamo alzato le bandiere del mai più intervento pubblico verso la Fiat, a Marchionne non è parso vero, ha detto non c'è problema, ho le mani libere, chiedo ai lavoratori quello che non mi date voi, se non me lo danno chiudo, quindi io penso che la strada, quella della Peugeot, ma guardi anche altre, perché i tedeschi hanno poco da strillare, perché come lei sa, attraverso il sistema dei lender, del loro equivalente regionale, loro partecipano alla Volkswagen. Allora, lei parlava di nuovi lavori, di nuovi saperi, di nuovo mondo sostanzialmente, allora oggi si apre a Torino, che è la sua città, il Salone del Gusto di Terra Madre, guardate la stampa, ecco come il cibo cambierà il pianeta, è il titolo, noi ieri abbiamo avuto Carlo Petrini, sentiamo un brano delle cose che ha detto su Terra Madre. Beh, Terra Madre è una rete che coinvolge più di 6.000 comunità nel mondo, comunità di contadini, pescatori, nomadi, trasformatori, produttori del cibo, è presente in 150 paesi del mondo e pratica nella vita quotidiana quella che molti definiscono la sostenibilità in campo agricolo nel rispetto degli ecosistemi e nel rispetto della qualità del cibo. Questo mondo è un mondo che può essere solidale, alleato, compagno di strada dell'operaio che vuole battere, come lei scrive nel suo libro, questa solitudine, sì o no? Ma io penso di sì, guardi, noi solidarietà sociale ne abbiamo avuto ancora molta, ne abbiamo avuto addirittura nel mondo della comunicazione che pur ha regole di immediatezza spietate che lei conosce benissimo. Quello che abbiamo incontrato, scusi l'espressione, è l'autismo della politica che ha preferito come si dice stare nei confronti di questa vicenda che la Fiat ha reso visibile ma che riguarda la storia di molte altre aziende, di molte altre condizioni di lavoro in questo paese che vede la politica stare sempre dalla parte del più forte e il più forte appare l'uomo della finanza, l'uomo dei mercati. A proposito di terra madre e non solo di ecologia, di sostenibilità, ieri è morto, era anziano, un uomo a cui eravamo molto legati, fu uno dei fondatori del manifesto ma soprattutto un grande scienziato, Marcello Cini. Era curioso e si è tenuto sempre giovanissimo grazie a questa sua curiosità, si è battuto contro il nucleare in Italia, si è battuto per uno sviluppo sostenibile e tante volte accanto a questi operai che Airaudo dice che rimangono soli. Io ho un'ultima domanda perché poi devo fare un collegamento con lo sport Airaudo. Mi faccia capire, a proposito di quelli che lei contatta, il finisseur, quello che era un operaio super qualificato, Gianni Usai diciamo, oppure alle meccaniche, parlo di persone che hanno più anni di lei, parecchi ormai, oppure quella persona c'è ancora in fabbrica e dall'altro lato la linea delle presse, sempre lì col rombo continuo legati alla catena, penso a Carmelo Inì che era un sindacalista della FIM, è quella la figura che prevale. Che cos'è oggi l'operaio? Un titolo voglio. Guardi, è ancora quell'uomo che se è legato a una catena di montaggio è vincolato ai ritmi di quella macchina. Si lavora ancora a 50 secondi, a 1 minuto e 20 secondi, non solo nell'industria automobilistica. Guardi, c'è di peggio, quel meccanismo della catena di montaggio si è trasferito per esempio nei call center. Proprio così. Grazie allora a Giorgio Airaudo.